Qual è la fabbrica digitale? Qual è la fabbrica digitale? Cosa ci può essere di più adatto di una fabbrica digitale che di per sé è versatile, flessibile, consente di lavorare piccoli lotti, consente di affrontare versioni diverse e codici diversificati per personalizzazioni? Questa direi che è la risposta unica che si possa fare al settore dell'aerospace.